Ha chiamato la questura raccontando di essere stato colpito da una biglia d'acciaio lanciata dal balcone di casa da un signore in zona stazione ferroviaria a Treviso. Vittima dell'episodio accaduto nel tardo pomeriggio di ieri un ragazzino di 15 anni. In pochi minuti le volanti arrivano sul posto e ascoltano il sospettato per ricostruire quanto successo. Inizialmente il trevigiano, 60enne, racconta solo di aver avuto una discussione con i ragazzini che lo stavano importunando. Ma successivamente l'uomo ammette di aver impugnato la sua fionda, poi consegnata spontaneamente agli agenti di essersi affacciato dal balcone e di aver colpito alla testa il ragazzino. Il 60enne ha poi spiegato alla polizia di essere stato già in passato vittima di insulti e offese da parte dei due 15 anni e questa volta di fronte all'ennesimo immotivato episodio di aver perso la pazienza e di aver reagito ammettendo poi di averlo fatto in modo spropositato con il rischio di aver potuto provocare conseguenze più gravi. Il 60enne senza precedenti penali è stato denunciato per lesioni aggravate a danno di minori.